che cosa lo ha spinto a lasciare l'ambiente del cinema io facevo in questo lavoro facevo l'assistente alla scenografia e poi sono passato a fare il realizzatore di quadri scenografici per le produzioni quando il cinema era era praticato soprattutto in italia da registi molto considerati ancora oggi registi storici molto importanti per la nostra cinematografia poi mano a mano è andato a prendere forma un tipo di cinema cinematografia molto più popolare come le commedia all'italiana ad esempio dove quel po di artistico che noi oggi ricerchiamo era presente soltanto in minima parte e con produzioni che guardavano all'osso si andava a girare in paesi dove costava molto poco la mano d'opera ma che erano paesi che erano amministrati soprattutto da governi diciamo dittatoriali per esempio andavamo in Tunisia andavamo in Spagna andavamo in Jugoslavia andavamo in paesi insomma dove c'erano dittature che erano abbastanza feroci all'epoca e quindi la vita lì per me era diventata molto difficile sono stato due anni nell'ex Jugoslavia per girare degli sceneggiati tv che forse voi non avete mai visto per esempio l'Odissea, l'Eneide e anche film come il mio nome nessuno oppure in Tunisia mordi e fuggi di Dino Risi erano film che oggi rivisti io li ho rivalutati ho considerato la loro appartenenza a quest'ambito chiamiamolo artistico che voi prima mi avete chiesto appunto ma la vita per chi ci lavorava era molto difficile molto più difficile di quando io avevo cominciato che era un'epoca nella quale si costruiva molto la scenografia c'erano delle possibilità economiche molto maggiori e quindi avevamo modo di esprimerci al meglio questa cosa è andata a decadere e di conseguenza io ho cominciato a stancarmi sia di viaggiare sia di lavorare di sabato e di domenica di fare le nottate consecutive quindi eravamo un po' stanca avevo anche un figlio molto piccolo e quindi ho deciso di trovarmi un'altra strada e questa strada l'ho ricercata nel mondo della illustrazione sempre un ambito attinente alle mie possibilità professionali io sapevo solo fare dipingere non sapevo nient'altro ed è stato lì che io ho mirato il mio futuro e nel quale insomma bene o male sono riuscito a trovare un'alternativa al cinema qual era una frase che si ripeteva nei momenti più sconfortanti della sua carriera? beh questa è una domanda molto difficile le domande sconfortanti era ma perché non cambi lavoro perché non cambi mestiere era quella più più gettonata specialmente i miei amici che mi conoscevano e che avrebbero voluto che cambiarsi perché in particolare un amico che mi diceva di cambiare e al quale poi alla alla fine ho dato retta e ho cominciato a lavorare per altre per altre prospettive proprio per cambiare e questa questa mia attività mi ha portato poi a uscire da Roma partire abbandonare il cinema nel giro di una settimana si è decisa la mia vita ho portato un campionario di lavori a Milano ad una società la quale mi ha fatto un contratto subito e quindi mi sono trasferito a Ferrara e lì è cambiata la mia vita ha mai avuto rimpianti riguardo alle scelte che ha compiuto sul piano lavorativo? no io ho accettato tutti i miei lavori con secondo me con umiltà cioè non mi sono mai prefissato di arrivare a dei gradini più alti ho sempre fatto però quello che mi è piaciuto perché quello che mi piace lo faccio sempre volentieri sia che sia corrisposto un valore in contropartita sia che non mi sia corrisposto nulla ho appena fatto un piccolo lavoretto adesso per degli amici che stanno portando avanti questa diciamo battaglia politica che riguarda il suicidio assistito e quindi gli ho fatto questa copertina assolutamente gratuitamente senza con grande piacere perché anche anch'io credo in questa in questa cosa faccio volentieri quello che mi piace mi passo il mio tempo dipingendo e in quel momento mentre lavoro tutti i problemi della vita tutti più o meno ne abbiamo ne abbiamo e in quel momento spariscono e quindi lavoro tanto volentieri secondo quali criteri sceglie quale soggetto raffigurare nei suoi acquerelli se tu parli di acquerelli parli di paesaggio o di architettura e quindi gli angoli che mi affascinavano di più dal punto di vista architettonico li trovavo nelle città e per il paesaggio naturalmente questi meravigliosi paesaggi per esempio nella nelle isole spagnole teneriffe eccetera oppure nell'architettura per esempio in argentina negli stati uniti che sono pieni di architetture anche ardite moderne e poi perché l'architettura in particolare perché io ho questo taglio professionale che mi riporta molto spesso all'architettura la scenografia in fondo è architettura che la differenza dell'architettura dell'architettura vera perché non è una cosa che è definitiva ma che continua continuamente a cambiare ad evolversi e quindi ho anche una preparazione tecnica più specifica per l'architettura ed è lì che mi diverto di più in passato ha avuto modo di conoscere e collaborare con grandissimi registri italiani chi e cosa in lei hanno lasciato più traccia Ettore scuola perché è stato l'ultimo col quale io ho lavorato ero già al dorso ad ossi quando lavoravo per scuola cioè ci ho lavorato anche prima di partire da roma l'ultimo film che io ho fatto prima di partire di e di venire a ferrare è stato con Ettore scuola che poi finite le riprese del film il viaggio di capitan fracassa mi chiamò anche per fare il suo manifesto e in primo piano naturalmente c'era il personaggio dell'interprete del film che era troisi e feci questo troisi in veste di pulcinella come come era nel teatro perché il film in fondo è un'opera teatrale non è il film classico che siamo abituati a vedere e poi per secondo soltanto per secondo ma non perché meno importante anzi ma perché io ero ancora un ragazzino le prime armi è stato federico fellini in giulietta degli spiriti e poi anche nel film mai fatto che non è mai stato realizzato che si chiama ma storna che voleva dire ma stroianni ritorna come genitore artista scenografo e fumettista insegnante quali consigli potrebbe darci per affrontare il nostro futuro con maggiore serenità e la passione quello che ti guida un ragazzo senza una passione non va molto lontano è questo è serve una grande passione grande passione grandi risultati non posso dire altro si superano molti ostacoli anche perché non tutti siamo sicuri di noi stessi ci sono incertezze insicurezze che ti bloccano ti frenano ma io non riuscirò mai ma se voi mi mettete di fronte a queste cose qua quando avevo 16 anni 15 anni sarei rimasto così anch'io no però a certi livelli ci arrivi soltanto dopo tanti anni di di esperienza di lavoro quindi non bisogna buttarsi giù bisogna assolutamente lavorare lavorare su se stessi finché i risultati li ottieni sicuramente li ottieni grazie a tutti